Un saluto dal Tg della mobilità, sono in corso i lavori per il rinnovo dell'infrastruttura della Roma Lido, sono iniziati con la tratta nelle due direzioni Colombo-Siantica. Con l'inizio dei lavori la ferrovia limita il servizio tra Porta San Paolo e Decilia in orario serale. Gli ultimi treni utili a percorrere l'intera linea sono da Porta San Paolo verso Cristoforo Colombo con partenza alle 19.18, da Cristoforo Colombo verso Porta San Paolo con partenza alle 20.03, dopodiché l'esercizio ferroviario viene limitato alla tratta Porta San Paolo a Decilia. Tra le stazioni Decilia e Cristoforo Colombo è attivo un servizio busanavetta gestito per conto Cotral con frequenza a 15 minuti. È tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.